vaccini l'effetto green pass genera boom di prenotazioni provvedimenti del governo le perplessità di acquaroli e salvini anche a pesaro si susseguono manifestazioni contro l'obbligo di green pass tentata rapina bizzocchi l'ex presidente vis mette in fuga due malviventi una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre vi ritrovate al nostro spazio dedicato all'informazione rossini news telegiornale di lunedì 26 luglio che apriamo occupandoci di sanità da giorni infatti la prospettiva del green pass obbligatorio ha avuto l'effetto di impennare le prenotazioni ai vaccini circa 20.000 nelle marche in pochi giorni con lo scorso venerdì che ha segnato pure il record di 4.500 prenotati in 24 ore 30 per cento in più di prenotazioni registrato anche per quel che riguarda i vaccini in farmacia agosto dunque punta a dare nuovo vigore alla campagna vaccinale della regione oggi sono arrivate nuove dosi dopo che negli ultimi tre giorni compreso oggi è rimasto chiuso il punto vaccinale dell'ex resto in attesa di rifornimenti convogliando gran parte delle vaccinazioni pesaresi nell'ospedale di muraglia ad incentivare le prenotazioni al vaccino non è solo il green pass ma anche un numero di contagi tornato a salire anche oggi in un lunedì con pochi tamponi appena 863 sono stati 54 i nuovi casi positivi la maggior parte dei quali cioè 33 in provincia di pesaro e urbino una media di contagio che sale così al 12,9 per cento così come sale al 38,56 il tasso di incidenza accumulativo ogni 100.000 abitanti più rassicurante del rovescio della medaglia che riguarda il dato sui ricoveri che invece restano stabile 19 pazienti indegenza nelle marche di cui 4 in terapia intensiva. Vaccini che dunque godono di una spinta in avanti dall'obbligo delle green pass ma il vincolo della certificazione verde pone alcuni dubbi sulla gestione turistica dell'estate marchigiana e questo perlomeno il pensiero del presidente della regione Francesco Acquaroli intervistato ai microfoni di Antonio Astuti C'è una regoloscenza del virus? Sì. C'è una fase dove la variante delta si fa presente anche nella nostra regione? Sì. Ci sono sicuramente dei segnali che ci inducono all'attenzione nella regione Marche e in Italia ma credo che bisogna anche dare un segnale nel pieno mese di luglio alle porte del mese di agosto un segnale di fiducia se non c'è questo messaggio di fiducia è chiaro che rischiamo di compromettere mezza della stagione più importante che quella estiva. Non ci dimentichiamo che veniamo da sei mesi di chiusura, sette mesi di chiusura importante non ci dimentichiamo che questo è il secondo anno. In questo senso credo che alcune scelte potevano essere più oggettive e credo meno ideologiche. Questo non significa che vogliamo dare un messaggio negativo io credo che il Green Pass doveva essere un'iniziativa da prendere per le grandi manifestazioni doveva essere un'iniziativa da mettere in campo nella stagione estiva per tutte quelle occasioni che non sono quotidiane, che non incidono nella quotidianità. Perché lei immagini se è possibile per una famiglia che magari in parte ha fatto il vaccino ma il figlio non è vaccinato andare in vacanza una settimana e fare ogni due giorni il tampone a una parte della famiglia o a tutta la famiglia è chiaro che ci sono delle situazioni che creano un impatto. Io ritengo che poteva essere una fase gestita in maniera diversa. E c'è anche chi contro il Green Pass è sceso in piazza per dire no a questo obbligo. Sabato pomeriggio a Pesaro si è infatti tenuta una manifestazione in simultanea a tante altre città italiane. Manifestazione che avrà un secondo atto mercoledì sera alla Palla di Pomodoro. La previsione governativa del Green Pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto in determinati luoghi di accesso pubblico sta scatenando manifestazioni di popolo, o perlomeno di parte di quella cittadinanza che mal digerisce una simile imposizione coercitiva. Chi dice no al Green Pass decide dunque di scendere in piazza. Slogan e cartelloni per manifestazioni che sabato si sono svolte in contemporanea in tante piazze italiane, compresa Pesaro, dove mercoledì 28 luglio alle 20 si replicherà in piazzale della Libertà con una seconda manifestazione. Ecco intanto alcune delle voci di piazza del popolo raccolte sabato da Paolo Pagnini. Siamo qui semplicemente perché vogliamo chiarezza e vogliamo risposte. Non è possibile che veramente fino ad una settimana fa eravamo in piazza ad affollarci per gli europei e adesso veramente dobbiamo mostrare un Green Pass, un pass vaccinale senza nessun tipo di spiegazione, con informazioni veramente contrastanti e tra l'altro senza che nessuno si prenda la responsabilità di questa situazione. Perché il ricatto non è assumersi la responsabilità, punto. Cioè siamo veramente molto arrabbiati, non siamo no-vax, siamo tutte persone vaccinate a favore della scienza, quindi noi cominciamo a fare tifoseria pro-vax contro no-vax e cerchiamo soprattutto di rimanere calmi e di non diffondere l'odio verso chi semplicemente la pensa diversamente da noi. Abbiamo un cartellone in cui c'è scritto non avrete la guerra tra poveri perché semplicemente stiamo cercando di evitare anche l'istigazione all'odio che c'è nei social in questi giorni. Bisogna essere molto calmi perché è un momento molto difficile ed è veramente molto complesso da gestire. Che la gente si renda conto di quello che succede e quindi che metta fine a tutta questa situazione surreale che stiamo vivendo ormai dall'anno scorso che è andata via via sempre più peggiorando con restrizioni sempre più forti condizionamenti sempre più forti sia dal lato dell'informazione che trasmette solo determinate informazioni dalla mattina alla sera d'altro canto per rendersi conto di una pandemia dobbiamo essere informati dalla mattina alla sera che esiste questa pandemia perché francamente per strada gente che cade da tutte le parti io pur girando non l'ho mai vista. Ecco. Green Pass e vaccini sono stati argomenti affrontati anche da Matteo Salvini nella sua tappa pesarese di sabato finalizzata alla raccolta firmel per il referendum di riforma sulla giustizia. Vediamo. Weekend nelle Marche per il segretario della Lega Matteo Salvini che fra Macerata, Pesaro e Fano ha fatto tappa nelle piazze per raccogliere personalmente le firme al referendum sulla giustizia accompagnato dagli esponenti della Lega Territoriale. Un'operazione che a Pesaro si è materializzata sabato mattina in un gazebo all'angolo fra Via Branca e Piazza del Popolo. Raccolta firme sulla quale il leader leghista ha espresso viva soddisfazione. 300.000 firme in 20 giorni a luglio con 40 gradi è una cosa incredibile mai vista in precedenza. Ieri sera a Fano abbiamo dovuto andare via a mezzanotte perché non ce la facevamo più. Partiamo stamattina, poi a Rimini. L'entusiasmo che c'è mi fa pensare che non raggiungeremo mezzo milione di firme ma raggiungeremo due, tre, quattro milioni di firme. Quindi è anche una garanzia per Draghi perché se 5 Stelle e PD tirano il freno a mano queste firme aiutano a correre, ad accelerare. Salvini è tra l'altro arrivato nelle Marche ad una manciata di giorni dall'aver ricevuto la sua personale somministrazione di vaccino. Tematica che assieme a Green Pass e riapertura delle scuole a settembre ha affrontato anche nella sua visita pesarese. Dobbiamo lavorare per mettere in sicurezza chi rischia di più, gli anziani, i nonni, coloro che hanno altre malattie, senza rovinare l'estate e complicare la vita ad altri milioni di italiani. Io mi sono vaccinato per mia scelta, non per obbligo e ritengo che debba essere una libera scelta per tutti, soprattutto per i ragazzi perché quando sento parlare a sproposito di fare entrare in classe a scuola bimbi e ragazzi solo se vaccinati e gli altri li lasciamo a casa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Noi stiamo lavorando per una scuola aperta a tutti. Ma io ho fiducia negli italiani che non hanno bisogno di divieti, di multe, di obblighi, di burocrazia e sanno cosa devono fare. Quindi io invito tutti a informarsi e a scegliere. Quello che non accetto è la multa, il divieto, la burocrazia. È un'estate già difficile. Se complichiamo la vita ai lavoratori rischia di diventare ancora più difficile. La gente deve poter scegliere liberamente come ho fatto io. Io mi sono vaccinato ma non voglio imporre a nessuno di fare quello che ho fatto io. Fra due mesi riapre la scuola. A che condizioni deve riaprire la scuola? In sicurezza, con classi senza 30 bambini per classe, con il ricambio dell'aria. Io ringrazio Regione Marche che ad esempio ha investito 9 milioni di euro sulla sanificazione dell'aria, altro che banchi con le rotelle. Però per quello che mi riguarda, per quello che riguarda la Lega, non ci deve essere un solo bambino che rimane fuori dalla classe. Roberto Bizzocchi, imprenditore dell'azienda di cosmesi pesarese Eva Garden e nota personalità legata alla Vispesero, prima da fondatore del Movimento Ultras e poi anche da co-presidente, è stato vittima di un'aggressione ai fini di rapina. Raggiunto telefonicamente, l'imprenditore ci racconta lo spiacevole episodio. E' un specievole episodio perché io rientravo tranquillamente a casa, a far da notte, dopo essere stato con gli amici a fare una partita al Circolo Rossi, mi rientravo intorno alle due e mezza. Ho parcheggiato la mia macchina qui in Viermada, io abito al numero 23, a un certo momento ero arrivato a 20 agosto, mi sono scesi in due, un uomo e una donna e lui subito con un pare minaccioso ha detto caccia mi sordi, un accento romano. Io purtroppo mi si è chiuso la vena, l'ho colpito subito e immediatamente al volto e per mia fortuna per cazzo subito a terra. A quel punto lì lei mi è sentata addosso, cercato di portarmi via l'orologio, dammi l'orologio, dammi l'orologio, l'ho scaraventata per terra anche lei, hanno visto che non stavo scherzando, quindi poi è sopraggiunta la macchina nella strada, non so loro forse hanno avuto paura che arrivasse dalla gente, qualcosa, hanno pensato bene di andare via la svelta. La paura l'ho avuta dopo, nel senso che ripensarci, potevano essere armati, potevano avere un cortello, quindi la mia adrenalina è scoppiata dopo, lì per lì ho ben pensato di difendermi e di essere aggressivo. Multa di 400 euro per il locale Acqua Marina del ristoratore Umberto Carrera che dopo aver ricevuto nella mattinata di sabato la visita di Matteo Salvini è stato sanzionato dalla polizia locale nella stessa serata. Nell'attività della spiaggia di Levante del ristoratore era infatti in atto una festa fra tanti ragazzi. Troppi secondo le forze dell'ordine, così il mancato rispetto dei protocolli anti-covid ha portato al provvedimento amministrativo con tanto di sanzione. Il progetto Insieme aiutiamo i più piccoli con un grande dono, nato a gennaio 2021 dalla collaborazione tra la Onlus Gulliver e il progetto Arca, ha soddisfatto le esigenze di mille famiglie italiane, in particolare difficoltà economica. L'iniziativa in questi sei mesi ha così distribuito kit di prima infanzia contenenti beni fondamentali per la crescita dei più piccoli. Da settembre sarà possibile per altre famiglie presentare la richiesta di iscrizione. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a indicarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210, numero che vedete in sovraimpressione. Foto e video recapitateci oggi da un nostro telespettatore immortalano immagini di degrado della zona adiacente al supermercato Conad del Porto, in particolare lungo il vialetto pedonale che unisce Via del Monaco e Via Canale. Qui si radunano molti piccioni e tante persone seminano cibo per i volatili che finiscono per diventare facile preda di topi che popolano la zona a pochi metri dal fiume Foglia. Come scrive il nostro telespettatore, l'incuria, il disinteresse del Conad e il mancato intervento degli addetti alla pulizia lascia all'abbandono questa zona che facilita il proliferare di roditori rendendo poco sicuro e poco igienico questo passaggio a qualunque ora del giorno e della notte. Ed ora vi anticipiamo alcune immagini di eventi culturali e di intrattenimento che Rossini TV ha seguito questo weekend e che potrete invece vedere in settimana con alcuni speciali dedicati. Dopo oltre 75 edizioni, la Sagra delle Pesche di Monte Labate decide di ripercorrere tre quarti di secolo di questa manifestazione attraverso una mostra dedicata alla rassegna. Mostra sulla quale Rossini TV ha realizzato uno speciale che potrete vedere mercoledì 28 luglio alle 21.15. Alla stessa ora, ma venerdì 30 luglio, andrà invece in onda lo speciale di Rossini TV dedicato a Cali City l'estate in un sorso. Manifestazione questa che era invece la primissima edizione e che sabato nella centrale Via Passeri di Pesaro ha visto partecipare tanta gente ad un evento che ha esaltato le eccellenze vinicole del territorio con quasi 20 cantine riunitesi per far degustare i loro prodotti unendoli ai sapori dei ristorantini di Via Passeri. 1 miliardo e 100 milioni di euro di fondi europei a sostegno delle marche per la programmazione comunitaria 2021-2027. A tanto ammonta la nuova linfa, la ripartenza della regione che la giunta a Quaroli sta presentando ai sindaci del territorio. Ha cominciato a farlo venerdì scorso a Iesi e a tal proposito proprio nella città iesina era presente il nostro Antonio Astuti che ha realizzato questo approfondimento. Venerdì 23 giugno 2021 Rossini TV e a Iesi in trasferta per avere notizie su quella che è un'importantissima iniziativa organizzata dalle regioni Marche. Il presidente Francesco Quaroli, il presidente della regione Marche infatti ha convocato un incontro, una riunione presso i locali dell'hotel Federico II della città iesina, della città delle torri marchigiane con tutti i sindaci della regione per spiegare loro come avverrà la ripartizione dei fondi europei destinati all'Italia e nello specifico alle Marche conseguenti alla pandemia. L'Unione Europea ha destinato nell'ambito del Recovery Fund alla regione Marche 1 miliardo e 100 milioni di euro per affrontare tutto il post-pandemia. Bene, in questa occasione, quindi fortemente voluta dall'amministrazione regionale e dal presidente, proprio Francesco Quaroli vuole incontrare i sindaci della nostra regione e saranno presenti in tanti qui all'hotel Federico II per affrontare con loro la problematica e magari ricevere anche tanti suggerimenti. Noi abbiamo davanti a noi una stagione importantissima sul rilancio della nostra regione che passa sul giusto utilizzo dei fondi europei e della programmazione europea che si incrociano con sicuramente altre azioni di finanziamento che riguardano il PNRR, la ricostruzione, il CIS e in questo senso è importante sapere utilizzare bene e soprattutto tutti i soldi e le risorse che possono essere messe a disposizione appunto per far sì che la nostra regione subi la fase di transizione e torni ad essere una regione in crescita. Dobbiamo riorganizzare sia gli strumenti di finanziamento sia le operazioni strategiche da compiere per il rilancio di una regione che è un rilancio complessivo che passa dall'infrastrutture all'internazionalizzazione all'innovazione, alla digitalizzazione. Lo ripetiamo spesso. Oggi è giunto il momento di metterle a terra. Siamo anche a Iesi, la città di Roberto Mancini, il testimonial delle Marche e quindi anche una grossissima spinta sul turismo. Spinta sul turismo, spinta sulla capacità di farci conoscere all'estero, spinta sulla capacità di essere riconosciuti anche nel nostro paese. Ringraziamo Roberto Mancini per la sua straordinaria disponibilità e per le grandi soddisfazioni che ci ha fatto togliere da italiani e da marchigiani. Noi abbiamo voluto, prima incontrare le categorie, ora i sindaci, non per dare delle girarchie, ma perché vogliamo sviluppare la nostra strategia europea sentendo il territorio, le categorie e finalizzando molto bene quelle che saranno le azioni che verranno alimentate da una cifra che veramente non ha precedenti per la storia delle Marche. Un miliardo e 102 milioni fra Piano Operativo Regionale FESR, quindi Attività di Impresa e Città, e Fondo Sociale Europeo. Da questo punto di vista il quadro di sostegno 2021-2027 si accompagna a tre altri grandi assi, il PNRR, come è noto, il PNRR Terremoto, un alto miliardo e 780 milioni, e il Fondo di Sviluppo e Coesione, delle sigle che possono disorientare ma che impongono un approccio multifondo. Dobbiamo avere progetti che poi vadano a pescare nei diversi cataloghi di finanziamenti possibili. Per farlo è necessario avere un quadro estremamente chiaro delle idee progettuali. Siamo qui proprio perché quando entro dicembre dovremo approvare i POR per dare l'avvio alla stagione comunitaria, si sia in grado chiaramente di sapere dove dobbiamo andare a conseguire l'obiettivo. È un'occasione senza precedenti perché se sappiamo fin dall'inizio qual è la progettualità dei nostri sindaci, sapremo produrre un vantaggio generale senza nulla togliere evidentemente a quella che è la ragione madre del FESDRI, che sono le imprese, le categorie che abbiamo incontrato, ma dobbiamo assolutamente fare in modo che questa nostra condizione di regione in transizione, quindi regione che è in qualche modo connotata da sottosviluppo, sia solo una parentesi. Nel 2028 noi vogliamo tornare fra le regioni del centro-norte, questo è l'obiettivo. Mi pare che si inizi con il piede giusto nel senso di intanto informare i territori e poi condividere eventualmente delle proposte che arrivano ai territori. È il percorso che era assolutamente auspicabile, faccio i complimenti alla regione che sta portando avanti questa iniziativa. I temi sono quelli dell'attualità più stretta, dalle problematiche ambientali alla digitalizzazione dei territori delle città. Dunque io credo che l'indirizzo è quello fissato anche dai fondi del recovery. Bisognerà saperli intercettare, fare squadra, fare rete, perché questi territori o fanno rete e intercettano, oppure diventa molto complesso intercettare contributi. Ed ora una curiosità che è andata a scovare il nostro Antonio Astuti. Dagli anni 90 in poi, infatti, il fantacalcio è diventata una passione che si è radicata e tramandata fra generazioni di appassionati di pallone di Serie A. Ecco, a Pesaro c'è una sorta di fantacalcio storico fatto proprio da pionieri di questo gioco, quello della cosiddetta Lega della Mezza che questo weekend ha festeggiato niente meno che il suo trentesimo anniversario. Siamo con Andrea Ambrogiani, presidente della Lega della Mezza. Oggi Andrea festeggiate i trent'anni di fantacalcio. Sì. Abbiamo capito bene? Siamo partiti nel 1993, a gennaio, il solito gruppo di amici che ci vedevamo tutti i giorni alla mezza e quindi da lì il nome Lega della Mezza. Abbiamo visto sulla gazzetta che raccontavano di un libro che spiegava un po' questo gioco. siamo partiti a metà campionato, sono andato a prenderlo a Cattolica, l'ho comprato, abbiamo letto il regolamento e siamo partiti. Siamo arrivati a 29 anni, abbiamo finito il 29esimo, adesso è ad agosto, andiamo per il trentesimo, siamo rimasti più o meno quasi tutti sempre quelli. No, il calcio moderno, io sono un amante degli anni che furono. facciamo tutto a mano, cioè faccio tutto a mano da 29 anni e ogni quaderno è a casa mia, in una libreria con 29 quaderni. Quindi praticamente tu lunedì non lavori? No, mi alzo presto la mattina, poi se la partita è in bilico, mi alzo presto proprio, vado alle 6 e mezzo, aspetto a creare i giornali perché l'adrenalina di sfogliare il giornale è al massimo. Alessandro Gresta è il campione in carica di quest'anno, lo vediamo con la sua coppa e chiaramente la metterai proprio in bella mostra a casa tua, in fondo a letto. Perfetto, questo qui per me è una gioia immensa anche perché io non è da tanto che partecipo a questo fantacalcio, questo è un fantacalcio glorioso della città e quindi per me è stato già un onore partecipare. Alla fine poi, dopo tre anni, sono riuscito anche a vincere lo scudetto, per me è un onore, quindi la coppa è già, c'è il posto in sala, in onore, la moglie non è d'accordo però e il posto è lì, è già trovato tutto poi. Per me, ripeto, è un onore partecipare di qui, non so se hai già fatto notare, ci sono tutti i nomi degli altri vincenti, quindi già essere scritto qua in questa targhetta è veramente un'emozione. E con questo servizio si conclude qui il nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordiamo però l'appuntamento con la nostra prima serata alle 21.15, spazio al sesto concorso letterario Ideobook. Potrete vedere infatti in questo nostro spazio la cerimonia di premiazione con Alfio Magnesi e la giuria con la presentazione di Paolo Pagnini. Programmi, notizie e approfondimenti che sono sempre consultabili anche a portata di app, l'app di Rossini TV, che invitiamo tutti gli spettatori a scaricare, uno strumento utile per vedere notizie, potete consultare il nostro palinsesto o semplicemente per inviare segnalazioni alla nostra redazione. E dunque si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale. Da parte mia e di tutta la redazione vi auguro la più cordiale e buona serata e una buona continuazione con i programmi di Rossini TV. Grazie a tutti.